Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Il mondo degli scacchi vede entrare tra i grandi un nuovo fenomeno, il tredicenne russo Ivan Zemliansky, che si è fatto ammirare al recentissimo torneo a tempo lungo classico della Sharia Masters. E allora guardiamo insieme una delle sue partite, quella contro uno dei giocatori russi più forti, l'espertissimo Vladimir Fedosev. Like al video e partiamo subito, perché in questa partita, giocata al settimo turno, Fedosev di bianco apre con d4 e allora il giovane russo risponde con cavallo in f6, cavallo in f3, Zemliansky apre il fianchetto, g6, lo fa anche il bianco con g3, alfiere in g7, alfiere in g2, spinta d5, siamo in una pseudo catalana. E allora arrocco corto per il bianco, arrocco corto per il nero, c4 è la linea principale, invece Fedosev preferisce prendere spazio sul lato di donna, gioca a4. Il nero attacca subito il centro con c5, arriva d per c5, con cavallo in a6 il nero si vuol riprendere il pedone, guardate, non si riesce a difendere il pedone, quindi a mantenere il pedone di vantaggio, neanche se si gioca alfiere in e3, che Fedosev non ha giocato in partita. Come mai? Perché sarebbe arrivata cavallo in g4 e se l'alfiere si sposta, e sarebbe una genialata per il bianco riuscire a cambiare l'alfiere scuro del nero, ma anche grazie al cavallo arriva questa spinta e5, il nero sta già meglio anche a fronte di h3, perché arriva e per d4, h per g4, l'alfiere ricattura, cavallo che cattura al centro, cavallo che cattura in c5, coppia degli alfieri, il pedone, è vero che c'è il pedone isolato, ma attenzione, c'è una grandissima attività dei pezzi del nero, e il nero, guardate, anche la barra sta sicuramente meglio. E allora, dopo cavallo in a6, non si mette neanche a lottare per il pedone, Fedosev gioca, cavallo in c3, e allora Zemliaschi si riprende il pedone in c5, alfiere in e3, arriva adesso, il cavallo viene protetto con b6, arriva anche a5, attenzione, al solito giochino c'è la torre sospesa, e allora il nero gioca alfiere in b7, fermiamoci un attimo, sono passate dieci mosse, pensate che in database sono rimaste pochissime partite, c'è addirittura una sconfitta di Magnus Karzen di bianco, recentissima, contro Wesley So del 2022, giusto per farvi capire che bel setup sta mettendo in piedi Zemliaschi. Karzen aveva giocato l'idea migliore, probabilmente, che alfiere in d4, invece arriva a torre in a3, che rende la partita originale. L'idea più interessante rimane il salto del cavallo in g4, sempre con l'idea di poter spingere in e5, e invece donna in c8, donna in a1, il cavallo salta in e4 e vuole sciupare la struttura pedonale, e allora Fedosev cambia, cavallo per cavallo in e4, il cavallo ricattura, arriva a c3, e allora donna in c7, non soltanto connette le torri, ma vuole aiutare questa spinta in e5, a6 attacca l'alfiere, alfiere in c6, centralizzazione di Fedosev del cavallo in d4, il nero non vuole perdere, giustamente, la coppia degli alfieri. Arriva alfiere in d7, donna in a2, attenzione al pedone centrale, e guardate, Fedosev, poiché il nero non ha giocato quella bella manovra del cavallo in g4, in qualche modo è riuscito ad impedire questa spinta in e5, e allora addirittura il nero è costretto a cedere l'alfiere, alfiere per cavallo in d4, l'alfiere ricattura, alfiere in e6, a proteggere il pedone centrale. E allora arriva c4, il pedone non può catturare perché sta proteggendo il cavallo, mossa migliore, torre in f che va in d8, qui probabilmente, qui probabilmente in qualche modo bisognava subito andare a spingere sul lato di donna, anche andando a giocare sulle inchiodature, e invece arriva b3, che protegge il pedone e vuole impedire anche il salto del cavallo in d2, il nero migliora anche la seconda torre. Torre in a che va in c8, arriva e3, adesso una buona idea probabilmente è la creazione della batteria donna alfiere contro l'alfiere in fianchetto del bianco, e invece arriva cavallo in f6, donna in b2, secondo attacco sulla casa f6, arriva d per c4. Qui, attenzione perché bisogna continuare, cioè, bisogna prima riprendersi il pedone con b per c4, perché sennò poi quello va a catturare di nuovo, sarebbe un pedone passato micidiale. Donna in d7, siamo ad un momento importante, un altro momento importante e interessante di questa partita, perché probabilmente una delle migliori idee a disposizione del bianco è il cambio alfiere sul cavallo. Attenzione però, perché non si vince un pedone, il nero comunque si va a rifare sul pedone in c4. Vediamo cosa poteva succedere. Non giocata da Fedosev, alfiere per cavallo, il pedone e ricattura in f6, alfiere in d5, a questo punto è la continuazione migliore, alfiere per alfiere, il pedone c ricattura, donna per pedone in d5, donna che cattura in f6. Quindi il nero rimane un po' preferibile, ma probabilmente questa era la migliore idea, perché qui c'è il 2 contro 1 sul lato di donna, le torri già ben posizionate, la donna più centralizzata, c'è qualcosa che favorisce il nero, eppure questa era la migliore idea a disposizione del bianco. Fedosev invece che cosa fa? Va a giocare alfiere in b7, che protegge il pedone, attacca la torre e rimane comunque sulla diagonale principale. La torre sotto attacco, ricattura il pedone in c4, e qui bisogna riposizionare i pezzi. Torre in a3, si porta in a1, e allora arriva alfiere in h3 con tempo, perché attacca la torre. Guardate, questo è un pericolosissimo controllo sulla casa g2. Fortunatamente per Fedosev il bianco mantiene ancora sulla scacchiera l'importantissimo alfiere campo chiaro. Torre sotto attacco si porta in d1, arriva e5, che sembra una mossa decisiva, perché guardate, attacca un pezzo, se il pezzo si sposta, minaccia matto, e allora come si fa? Bisogna fare una minaccia più forte. Donna in b3, che oltretutto protegge anche la torre, e attacca la torre del nero, è l'unica mossa che salva il bianco. E allora donna in e6, va a proteggere l'alfiere. Attenzione però, scusatemi, va a proteggere la torre. Attenzione però, che non si può pensare di giocare alfiere per pedone e di prendere la torre. E infatti Fedosev non lo farà, perché c'è un'idea tattica sempre legata a questa d1. Torre per torre in d1 con scacco, la torre ricattura, torre in d4, minaccia matto. Quindi se donna per donna, torre per torre è matto, la donna è rimasta sotto attacco se si sposta. Dopo i cambi, il nero vince un pezzo. E allora cosa fa? Torna subito indietro con l'alfiere in b2. Fedosev arriva torre per torre in d1 con scacco. E la donna che ricattura arriva h5. Questa è una mossa che per adesso serve un po' a poco. Perché qual è l'idea stupenda, secondo me, del giovane russo è di aprirsi la possibilità di giocare su entrambi i fronti. Sia sul lato di re con la futura spinta h4, sia sul lato di donna sfruttando, avanzando il pedone che è già passato. Certo, ancora molto arretrato. E nemmeno ben protetto se dovesse avanzare. E allora arriva donna in d3. Torre in b4 attacca l'alfiere. Alfiere in c3, la torre sotto attacco si sposta, inchioda l'alfiere sulla donna. E allora questa è una cosa che non va mai bene. Torre in c1 a proteggere l'alfiere sulla colonna, oltretutto aperta. E allora re in h7 si toglie da qualsiasi tipo di scacco futuro. Arriva donna in d1 che schioda l'alfiere. Torre in b5, cosa vuol fare? Si vuole portare sulla colonna c, liberare il pedone. L'alfiere torna indietro in a1 per lasciare la colonna alla torre. Torre in c5, torre per torre. Il pedone ricattura. Il pedone passato. Certo, adesso non è più connesso, ma... Pareva difficile avanzare questo pedone. Il pedone passato ha fatto un passettino. Ora, Zemlianski dovrà proprio focalizzare la sua strategia sul supportare questo pedone passato. Intanto il bianco gioca donna in c1 che lo attacca subito, donna in d6 lo protegge, f3 probabilmente è un errore. Certo, vuole liberare il re, ma si è creata un'altra debolezza, quella sulla seconda traversa. E allora che succede? Succede, e non solo, il pedone avanzando può diventare un vero e proprio bersaglio. Il giovane russo non vedrà una continuazione eccellente che sarebbe la spinta e4. Come mai? Perché f4 è sicuramente sbagliata. C'è cavallo in g4. Guardate che succede. Il pedone diventa il bersaglio del cavallo. Può invadere anche la donna. Questo non si può spostare, perché se no... Si va a perdere materiale che risulterebbe decisivo. E dopo e4, se f per e4, donna in e6 lo attacca, il pedone è intoccabile. Bisognerà giocare donna in b1 e dopo il cavallo in g4 non solo c'è l'attacco al pedone, ma anche un attacco da matto. Perché dopo donna in e6, se il bianco si fa tirare sulla cattura del pedone, c'è un'invasione micidiale che minaccia a scacco matto. E se e5, donna che cattura in e1 con scacco. E' vero che il re si sposta. Ma donna in f1. Scacco matto. E invece il giovane russo gioca al fiere in e6. E allora qui... Fedosev gioca e4. Arriva c4. Il pedone passato continua ad avanzare, stavolta ben protetto dall'alfiere campo chiaro. Re in f2. Cavallo in d7. Re in g2. E qui ci vuole donna in d3. Perché donna in d3 porterebbe la donna in una posizione veramente dominante. E allora arriva il cavallo in c5. E qui non è tanto il discorso di attaccare questi due elementi. Quanto di togliergli la coppia degli alfieri. E allora alfiere in c3. Cavallo in d3 attacca la donna. Donna in d2. Arriva h4. Veramente buona per indebolire i pedoni di fronte al re. Fedosev cattura in h4. Donna in c5. Per l'invasione. H3. E siamo al nostro quizzone. Perché a disposizione del nero. C'è una mossa. Un'idea straordinaria. Allora mettete pure in pausa se volete. E da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Sacrificio di alfiere in h3 con scacco. Un alfiere intoccabile. Perché se il re lo accetta. C'è donna in g1. E guardate. Per non prendere scacco matto. Il bianco dovrà cedere la donna sul cavallo. Non basta andare a cedere l'alfiere. Perché il cavallo non andrà più naturalmente. In f4. Ma si giocherà cavallo in f2 con scacco. E per evitare il matto. Ci vuole che il bianco sacrifichi. La donna sul cavallo. E allora dopo. Che l'alfiere ha catturato in h3 con scacco. Il re si sposta in h2. E allora l'alfiere torna subito indietro in e6. Scusatemi. Donna in e2. Donna in e7. Attacca il pedone. Che viene protetto con re in g3. Sono passate 47 mosse. Quindi una lunga battaglia. Donna in a3. Attacca l'alfiere. Donna in d2. Lo riprotegge. Donna in c5. Per l'invasione con scacco. Re in h2. Ma a questo punto è il cavallo. Che si sposta in f4. Donna in e1. F6. A protezione del centro. In modo tale che la donna si possa spostare. Alfiere in d2. Donna in a3. Minaccia di catturare in f3. Arriva re in g3. E ma qui. Un'altra mossa stupenda. Perché. Zemlianski. Avanza il pedone. Un pedone intoccabile. Anche se due volte sotto attacco. Guardate cosa sarebbe successo. Se alfiere per pedone. Donna per alfiere. E se donna per donna. Il doppio di cavallo. E il nero rimane. Con un pezzo di vantaggio. Veramente incredibile. Perché si riprende la donna. E allora l'alfiere sotto attacco. Si porta in e3. Donna in b2. A protezione del pedone. A guardia. E a guardia. Della casa di promozione. Donna in f2. Arriva c2. Fedose. Dopo 54 mosse. Abbandona. Come mai. Voglio farvi vedere. Altre due mosse. Che succede. Dopo donna in f1. Succede. Che il pedone va a donna. Se il computer me la fa giocare. Che il computer va a donna. Alfiere per donna. E il salto del cavallo. Diventa. Cavallo in h5. Scacco matto. Veramente. Sarebbe stato uno scacco matto. Bestiale. Allora. Ivan Zemljanski. Conclude. Lo sharia master. Con una performance. Di 2700. E si candida. Sicuramente. A nuovi video. Su questo canale. Che noi. Lo sapete. A noi. Lo sapete. Piace. Guardare. E seguire. La carriera. Di questi giovani campioni. Spero proprio. Che la partita. Vi sia piaciuta. Io come al solito. Vi ringrazio tantissimo. Per l'ascolto. Buon fine settimana. A tutti. Iscrivetevi al canale. Se vi piacciono i miei contenuti. E noi naturalmente. Ci vediamo. Lunedì con un nuovo video. A presto.